Una festa della liberazione unitaria, collettiva, ampia e democratica, è ciò che è stato organizzato per il 25 aprile a Pescara grazie alla ritrovata compattezza delle forze antifasciste, è stato detto, di fronte agli attacchi quotidiani ai valori repubblicani e resistenziali. Il 25 aprile è la festa della democrazia, è la festa della liberazione. Se non ci fosse stato il 25 aprile del 1945, oggi probabilmente noi non staremmo qui a parlare, non ci sarebbe la libertà di stampa, i sindaci non sarebbero eletti democraticamente. Tanti valori che non dobbiamo ricordare, che non dobbiamo, scusate, dimenticare, ma al contrario dobbiamo tenere bene a mente la lezione della storia. Istituzioni, partiti, sindacati ed associazioni daranno vita ad una giornata ricca di appuntamenti, il cui filo conduttore è la fierezza della identità democratica di Pescara, il rifiuto di ogni neofascismo, accoglienza, uguaglianza e diritti sociali. Particolarità di questo 25 aprile, tra le altre iniziative, è questa marcia. La marcia vuole semplicemente testimoniare che esiste una memoria fertile in Italia e che ci sono veri antifascisti, al di là di tutte le polemiche e le strumentalizzazioni. Quindi la città vedrà un corteo di persone che portano un feretro in cui buttare dentro tutti i nuovi neofascismi che stanno nascendo. Antonio Tiberi, una larga adesione per un 25 aprile davvero particolare. Sì, abbiamo provato a rifare un 25 aprile di resistenza civile e dichiarare e declinare i valori della resistenza nei tempi contemporanei. Facciamo a pranzo a Vila di Risi un grande pranzo di finanziamento per la missione mediterranea, questa missione per il salvataggio e il soccorso di vita umana e il Mediterraneo, che insieme ad altre organizzazioni sociali italiane sosteniamo da tempo e abbiamo promosso. Seguirà subito la presentazione del libro di Francesco Filippi, noto storico che con noi collabora per i viaggi della memoria. Mussolini ha anche fatto cose buone, un libro chiaramente ironico volto a smitizzare alcune retoriche sul ventennio che vanno molto in voga in questo periodo. E poi seguirà un primo dibattito tra i candidati sindaci che faremo lì sempre a Villa di Risi sui valori e le tematiche della resistenza declinate nell'oggi e nel nostro vivere nella comunità del comune. Grazie.